Uè! Non pescare un'altra scusa! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAGLE! Uè! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi anche oggi tantissime novità per quello che riguardano le 24 ore precedenti al nostro Fortnite Tante news, arriva finalmente il nuovo bundle ma anche delle modifiche molto interessanti direttamente alle string dei file di gioco Che ci fanno capire che Epic Games sta comunque continuando a lavorare per noi E ascolta le richieste della community per sistemare alcuni dettagli che forse sono stati un po' tralasciati in questa season Nel video di oggi parleremo proprio e vedremo le immagini e sapremo il prezzo del Final Reckoning Pack Quello di cui vi ho parlato anche ieri e vi ho accennato due giorni fa Abbiamo tutte le immagini ufficiali anche degli spezzoni, dei gameplay proprio delle tre skin che comporranno questo bundle a tema Halloween Però parleremo anche del regalo di Epic Games, si ragazzi perché hanno inserito nelle stringhe di gioco un regalo che prestissimo sarà dato a tutti i giocatori E ovviamente una bella sbadilata di leaks per tenervi sempre aggiornati sul dietro le quinte di Fortnite Prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi seguono in live su Twitch Dalle 8 alle 18 Grazie mille ragazzi per tenermi compagnia, grazie per seguire questo canale E grazie anche a tutti quelli che utilizzano il codice creator Xyuderone Dai raga mi raccomando iscrivetevi anche ai canali e soprattutto Attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video Prima però E ve la devo fare la domandina dai Anche ieri mi avete risposto in tantissimi Di brutto grazie mille per i vostri commenti un po' le ho letti Domanda di oggi molto personale Ma secondo te qual è attualmente il pump più forte del gioco? Ne abbiamo tre varianti Abbiamo il tac che poi si trasforma in viola e leggendario Abbiamo lo spaz e abbiamo anche questo nuovo pompa Che è un mix appunto tra il combat e il nonno Ancora un po' da capire Secondo te qual è il migliore di tutti? Io ragazzi sebbene lo spaz sia veramente devastante preferisco il tac blu Dico tac blu al posto che dire tac viola o leggendario Perché la velocità del tac in questo momento della season È sicuramente un punto di forza che non va trascurato Anche perché molte volte ti entrano dei colpi Nonostante l'avversario abbia magari messo un muro Ma quindi ciancio alle bande E bando alle ciance Andiamo subito subito ragazzi a vedere innanzi la mappa della settimana 3 Questa è la mappa di Squatting Dog Ovviamente lo conosciamo da tantissimo Prepara questi tutorial esplicativi in un'unica immagine Sappiamo anche che la scritta, la lettera, la R di Fortnite Che dovremo cercare si trova nel putrido pantano Per la precisione vicino ad una fontana di slurp Quella che state vedendo esattamente alle mie spalle Quindi facilissimo trovarla Dovete semplicemente andare un pochettino più sopra Sotto alla struttura che tiene proprio il tubo Che rilascia questo liquido bluastro Troverete la R di Fortnite molto facilmente Ed andrete avanti con le missioni Quindi un grazie a Squatting anche per avere fatto questo lavoro eccezionale Andiamo avanti con il prossimo argomento Voglio parlarvi del regalo Che c'è scritto nelle stringhe di gioco Epic Games darà a tutti noi Sembrerebbe, vi traduco dall'inglese all'italiano Che Fortnite regalerà appunto un gift, un regalo Quindi è proprio una cosa, un qualcosa Nel prossimo futuro, nell'immediato futuro La stringa del regalo si chiama GBRMTOFFER E questa che stiamo leggendo invece qua Sarà la scritta che ci apparirà Quando andremo a riscattare il regalo Che dice items acquired Poi noi vorrebbe voler dire oggetto ottenuto Grazie per giocare a Fortnite E c'è una informazione molto più dettagliata Questa ve la leggo direttamente in italiano Che dice Questo è probabilmente il regalo Che verrà dato ai giocatori Perché c'è stato un po' di confusione Con i punti esperienza delle sfide Cioè Epic Games ha detto una cosa Poi non si è capito se davano 50.000 Adesso dan 14.000 Però c'è il bug grafico Però hanno messo più sfide nelle settimane Insomma hanno fatto su un pastrugno Che effettivamente ha un po' destabilizzato Alcuni giocatori Non si è capito bene che cavolo è successo Ed è anche successo che alcuni Non hanno ottenuto Non hanno ottenuto i giusti punti esperienza Per quello che avevano fatto Quindi qua ci dice semplicemente Che items received Eping make good header È proprio la parte Il cuore della stringa Dove appunto ci fa capire Che prestissimo arriverà un regalo Non sappiamo che cosa sia Ma aspettiamoci magari Da un giorno all'altro qualcosa E andiamo avanti con il prossimo argomento Si parla ovviamente del Final Reckoning Pack È già uscito Se non ricordo male In Giappone Il che mi fa pensare Che potrebbe anche essere uscito In Australia Di solito sono sempre i primi Che ottengono le cose Questa è un'immagine Molto interessante Pubblicata sul sito Di Fortnite Ora qua potrebbe essere cinese O giapponese Non ne ho assolutamente idea Abbiamo anche Un'altra immagine Prima di farvi vedere Proprio le skin in game Questa è molto Molto più bella Come vedete il bundle Avrà tre skin E tre backpack Dovrebbero essere tutte e tre Di rarità epica Ma volevo insieme a voi Dare un'occhiata Proprio al bundle In sé Questa è Catrina Ragazzi La prima Delle tre skin Una specie di Scheletro femminile Ovviamente Si capisce ovviamente Dal nome Con dei fiori Arancioni Con il backpack Che rappresenta Una specie di Spina dorsale Questa è addirittura Quella che vi sto facendo vedere Un emote Che non è compresa Nel bundle Ma che arriverà Mentre quello che stiamo vedendo In questo momento È black light Non mi fa impazzire Sinceramente Le ali sono anche Abbastanza carine Non mi sembrano diverse Da un restyling Delle ali di Come si chiama lui Il tizio Quello che sembra un diavolo Che la faccia blu E le ali da pipistrello Da vampiro Sono molto somiglianti Come vedete C'era anche un piccone Che però anche questo Non è compreso Nel bundle E se Eccolo qua il piccone Questa invece è un po' più carina Ultra shite Quindi tipo Ultra falce Una roba del genere Con due stili Dovrebbe essere un Viola più chiaro Viola più scuro Però molto molto bella Questa falce E nel Buco che ci manca ancora Quindi la terza skin Che non vi ho fatto vedere Secondo me È la migliore Del trio Ed è proprio Willow Anch'essa Due stili Però La versione Ragazza emo Un pochettino Storpiata Non è Assolutamente Malvagia Mentre l'altra variante Che non è altro che La bambola di pezza Ve la faccio vedere In questo momento Sinceramente Non mi fa impazzire Particolare Carina Carino anche il fatto Che ci sia dietro Una bambolina Esattamente uguale Però Se devo essere sincero Molto molto più bella La variante Normale E ovviamente Come non parlare Un attimo Del fortnite Mersi Perché c'è qualcuno Che non ha mai vissuto L'evento di Halloween Nell'anno scorso Né due anni fa E quindi L'oggetto L'arma Che caratterizza Halloween In fortnite E lo spara Zucche Il pumpkin Launcher Se non lo sapete Ve lo dico brevemente E' proprio un Prende le vesti Dell'RPG Ovviamente E spara Delle zucche Che esplodono All'impatto E mentre volano Rilasciano Una risata Maligna Che è veramente Molto molto carina Da vedere Spero che Dai non possono Non inserirlo Non avrebbe assolutamente Senso Un po' come Lo spara uova di Pasqua Sotto Pasqua Ovviamente E mica lo fanno Sotto Carnevale Ovviamente Quindi staremo a vedere Se anche In questa In questo fortnite Lo inseriranno Insomma ragazzi Anche per oggi Le news Sono terminate Io vi ringrazio Tantissimo Per avere guardato Questo video Mi raccomando Iscrivetevi Ai canali Noi ci vediamo Alle 8 In live su twitch Ciao Noi ci vediamo 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 Noi ci vediamo